Nascondeva in casa 4,5 kg di marijuana sparsi per tutto l'appartamento, 5 piante alte oltre un metro ed infine quasi 40 grammi di hashish. Per questo è finito in manette un ventenne italiano ed incensurato, nei guai è finito pure il padre del giovane, anche lui incensurato e denunciato adesso per concorso nella detenzione dello stupefacente. Il tutto era partito da alcuni controlli in un circolo di Castelnuovo di Sabbioni, nel comune di Cavriglia, dove i militari avevano sorpreso il ventenne con 11 dosi di marijuana suddivise in bustine ed alcune centinaia di euro. I carabinieri avevano così esteso la perquisizione all'abitazione del giovane, dove hanno scoperto una vera e propria attività illecita in grande stile. Per il ventenne sono così scattate le manette. Il giovane è stato sorpreso dai militari dell'arma nel corso di alcuni controlli a tappeto messi in atto dai carabinieri di San Giovanni Valdarno e supportati da un unitanti droga del nucleo carabinieri cinofili di Firenze. Durante i controlli, infine, i carabinieri hanno identificato numerose persone, alcune delle quali già noti alle forze dell'ordine. Grazie a tutti.